le avventure di mascia mascia non vuole fare il bagno che bello giocare con la schiuma vero anna? mascia anna forza è ora di uscire dalla vasca no mamma ancora un po' beh è ora di risciacquare i capelli eh no io ho paura mi va l'acqua negli occhi mascia niente storie forza risciacquiamo per bene no no aiuto non voglio hai visto mascia ci siamo riuscite anche questa volta sì ma io odio l'acqua negli occhi e ho deciso che da oggi non farò mai più il bagno mascia ma cosa stai dicendo? sì sì ho deciso proprio così il giorno dopo finalmente a casa sai mamma oggi all'asilo ci hanno fatto fare i giochi all'aperto davvero? beh allora direi che è giunto il momento di andare a fare un bagnetto non credo proprio ma mascia? ti ho detto che il bagno non lo farò mai più beh ora vado a mangiarmi un bel panino e va bene fai come vuoi tanto lo so che poi te ne pentirai uffa non riesco a dormire c'è una puzza qui in camera vado a vedere se c'è anche da mamma e papà forse anche loro saranno svegli eh no loro stanno dormendo profondamente mmm che buon profumino che è Anna e anche la mamma sarà perché loro hanno fatto il bagno e io no? so e allora sono io che puzzo ma io non voglio più lavarmi e quindi dovrò abituarmi a questa puzza ehi Anna guarda come vado veloce con il traciclo oh come si divertono già e guarda ora come corro veloce ah 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 mmm queste scarpe mi danno fastidio se le tolgo correrò più veloce via una e via due evviva posso correre in libertà ah 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 uff che sudata beh Masha allora direi che è proprio arrivato il momento di fare il bagnetto questa volta non puoi rifiutarti non ci penso neanche Masha prima o poi dovrai fare il bagno no le gocce d'acqua degli occhi mi fanno fastidio e io il bagno non lo farò mai più Masha se il problema sono gli schizzi d'acqua non ti preoccupare ci penso io vieni un attimo a casa mia che ti faccio vedere una cosa ok nonna ecco Masha eccoci arrivati nella mia cantina qui ci sono tantissime cose beh guardiamo questo baule qui dentro ci dovrebbe essere proprio quello che fa il caso nostro wow ah ecco qui proprio come pensavo la mia vecchia maschera da sub ti basterà indossarla quando fai il bagnetto e vedrai che non avrai più problema degli schizzi d'acqua in faccia e vai Masha Masha è l'ora del bagnetto arrivo subito mamma ecco qui la temperatura è perfetta eccomi qui ma Masha e quella cos'è? è una maschera da sub così ora l'acqua non mi entrerà più negli occhi che bella idea dai forza andiamo allora oh che divertente ora posso giocare tranquilla è ora di risciacquare i capelli sono pronta mamma vai pure funziona e vai ora il bagnetto sarà sempre divertente eh 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 il bagnetto sarà sempre alla città un casino èently città ai ag ai mi mi Grazie a tutti.